Allora voglio caricare la programmazione di una classe, allora entro in Spaggiari e vado sulle mie classi, per esempio voglio inserire la programmazione nella quinta E, M e E, dunque vado sul registro, schiaccio qua sul registro, vado qua in fondo e vado in programma, clicco qui. A questo punto vado, clicco qui, progettazione delle attività, vado in fondo, faccio carica PDF, qua faccio sfoglia e vado a prendermi il programma in PDF, che ho preventivamente compilato in PDF. Faccio apri, faccio conferma e dopo un po' il file si carica. Vado a vedere se è tutto a posto, schiaccio di nuovo qui, vado in fondo e ho caricato, come si vede c'è il file caricato dalla programmazione.